Posso occuparmene io? Va bene, ma prima andiamo a vedere il calavere. Signorina Boni, Polina, sono l'ispettore vetrano, vuoi chiamarmi Roberta? Capisco che non è il momento migliore, ma io ho bisogno di farti qualche domanda. Tu mi rispondi quello che ti ricordi, ok? A che ora sei arrivata in sala operatoria? Circa le sei. Hai incontrato qualcuno, visto qualcosa di strano durante il tragitto? Posso chiederti che rapporto c'era tra te e Zorzole? Mi è sempre stato vicino. In che modo? Come un padre, soprattutto dopo la morte dei miei genitori. Se sono diventata un'infermiera, lo devo a lui. Ho perso il mio punto di riferimento. Fatti forza, Polina. Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta. Polina! Mi scusi, posso sapere chi è lei? Michele Colli. Chi sono fidanzato? Sono anche un medico di questo ospedale. Ah, lei lavora qui? Sì, faccio parte dell'equipo di Zorzole. Non ero più nudo. Avrei bisogno di farle qualche domanda, magari in un altro momento. Sì, va bene. Tranquilla.